Qualsiasi cosa ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdervi niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto ragazzi, cliccate sulla campanella lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione! Non posso credere che facciate davvero questo. Ha una condizione. Eh, lo sapevo. Tenete d'occhio i politici in città. Voglio che riferiate a Maria della Rosa in fiore, quali sono quelli che stanno aiutando i Borgia. E poi? Lì farete scomparire? Anche se quel figlio di un cane mi odia, è pur sempre mio fratello. Sta bene, andiamo. Vi seguirò fino al banchiere. Con finito chiede a coloro che hanno scambiato gli edifici del rione per una fiera ludica di rispettare i fili del bucato e i loro sostegni. Sono stati segnalati molti casi di piede di rinforzo. Le strade vanno tenute sgombre per le guardie. Non voglio morire. Aiuto! Egidio, a quanto pare siete pronti a morire da gentiluomo. Ho il denaro. Ah, allora cambia tutto. Il banchiere sarà contento. Siete venuto da solo? Vedete forse qualcun altro? Seguitemi, furbacchione. Si è saputo nulla di mio fratello Francesco? Se ne sta occupando Cesare. Spero che stia bene. Allora... Che cosa farete con... Il mio denaro? Il banchiere ama trattar bene gli amici. Ah, quanta generosità. Cosa avete detto? Niente. Cosa avete detto? Cosa avete detto? Cosa avete detto? Cosa avete detto? Grazie a tutti. 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 Perché ci piega tanto? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.